che dobbiamo oggi devo fare i doppi colpi sul doppio pesale doppi sul doppio mettiamo cinque minuti devo fare almeno 135 sì perché devo un po cresce a a a a a a a a a Grazie a tutti. Aumentiamo a 140. Vediamo un po'. 1, 2, 3. Il problema è che se devo fare piccoli intervalli, sono pure abbastanza bravo. Quando bisogna andare a fare un tappeto di doppio pedale, la cosa comincia ad essere un po' più difficile. Almeno per me. Scusate, magari cambio... Cambio inquadratura. Aumentiamo a un po' più difficile. Aumentiamo a un po' più difficile. Aumentiamo a un po' più difficile. Proprio per... No, che è un 145. Adesso stavamo a 140, fino a 10 secondi fa. Aumentiamo a un po' più difficile. Aumentiamo a un po' più difficile. 150. E proviamo anche la resistenza. Aumentiamo a un po' più difficile. Aumentiamo a un po' più difficile. Aumentiamo a un po' più difficile. Il tempo è finito. e si può dire che il 150 non va tanto bene cito lo devono dare perché sennò me lo scordo doppio doppio pedale colpi doppi a 150 a 145 bene da 150 ancora no adesso continuiamo con il nostro solito drum bass drum freedom double bass drum freedom scusate sempre questi adesso devo abbassare un po sto gate perché queste mani alle parole adesso va bene se va molto meglio a quanto lo devo fa facciamo un po 130 proviamo a 130 il gil donati sarà molto fiero di me 10 minuti microfono basso a 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 adesso mano sinistra piede sinistro inizio e poi rifaccio col piede destro sempre mantenendo il groove sulla mano sinistra a 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 non ce la fa oggi il computer ma perché? che che c'hai così da soffrire? un a un 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 Vediamo se così migliori un pochetto. Mi sta venendo un dubbio. Vediamo un po'. No, no, va bene, meno male. Comunque oggi il computer sta soffrendo tanto, ma tanto, 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 e non ho capito il perché. Le ventole funzionano? Vabbè. Andiamo avanti, va. No, basta, eh. Perché non giù la faccia suonare. Non riesco a suonare così. Audio. Vediamo. Vediamo, faccio una cosa. Vediamo un po'. Funziona ancora? Sì. Vediamo un po'. Facciamo. inoltre. Subrepare la cuore efficaccia. Vediamo inferiore delråde. Cuore l'aco. Grazie a tutti. Speriamo adesso che funzioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutti a quattro.